buon pomeriggio siamo in diretta per la nostra rubrica diciamo consueta il libro della settimana io sono Antonella Campagna è la responsabile degli eventi culturali e attività didattica della biblioteca universitaria di Pavia e vi do il benvenuto nel nostro salone teresiano virtuale che spero continueremo a usare ancora per poco speriamo al più presto di tornare nel salone teresiano ben più degno del Pier Marini oggi presentiamo il nostro libro della settimana di oggi è lo sguardo avanti un libro veramente diciamo molto importante lo sguardo avanti diciamo è il libro di Abdullahi Ahmed che è un ecco adesso è arrivato anche lui per cui ve lo vi presento tutti i miei ospiti e il libro di Abdullahi Ahmed Abdullahi è un giovane uomo nostro connazionale perché dal 2016 è cittadino italiano che arriva dalla Somalia e questo libro diciamo racconta la sua storia ma non solo racconta anche molto altro poi ne parleremo intanto io partirei immediatamente con l'inizio del libro perché all'inizio Abdullahi racconta il suo non ritorno cioè dopo 17 anni decide a febbraio del 2020 di tornare in Somalia per diciamo un progetto di cooperazione che porta avanti ma purtroppo il covid lo blocca quindi adesso vi presento i nostri ospiti e poi partirà direttamente un filmato in cui vedremo che invece Abdullahi a ottobre ce la fa torna in Somalia vedremo che cosa succede allora intanto vi presento il nostro autore appunto Abdullahi Ahmed che parleremo con lui e con di questo libro con Gipo Amfosso che voi tutti conoscete che è un docente della Angelini di Pavia uno scrittore un amico diciamo insomma un caro ragazzo e con Donatella Mazza che è una docente di lingua e letterature tedesche all'università ma da grande vuole fare l'attrice e infatti è qui in veste di lettrice e quindi lei ci leggerà i brani del libro con noi c'è anche la mia carissima amica e collega Maria Cristina Regali che si occupa con me della comunicazione e che adesso ci mostrerà il filmato con cui iniziamo questo nostro incontro io faccio ecco grazie a tutti 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 e a tutti grazie 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 a tutti non tutti grazie a 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 tutti con il grazie a tutti 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 e in cui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti